Grazie, buonasera, un saluto delle acri alle delegate e delegati alla segreteria, al segretario, agli ospiti, grazie per questa opportunità di partecipare al vostro congresso. Io sono qui per raggiungere la voce delle acri, per confermare in qualche modo di un cammino che nel corso di questi anni la vostra organizzazione e anche il sindacato più in generale sta facendo con le organizzazioni sociali come le acri. Credo di, intervenendo dopo la relazione di Marco, che a me è piaciuta molto, mi sembra assolutamente completa, è difficile persino aggiungervi qualcosa, naturalmente sulla parte della contrattazione non dirò nulla, ha detto Maurizio Landini e chi mi ha preceduto, ma credo di dover dire alcune cose in ordine al fatto che, nonostante le difficoltà e i problemi ai quali pure si riferiva il vostro segretario all'interno della sua relazione, credo di poter dire che c'è un clima nuovo nel Paese che è cresciuto, credo, in un rinnovato anche rapporto tra le organizzazioni sociali del lavoro. Ecco, io vorrei stasera sottolineare questa cosa perché credo che alcune organizzazioni hanno scelto di condividere prima di tutto una visione comune che sta molto sulle questioni che il vostro segretario ha, come dire, voluto sottolineare nella sua relazione. Ecco, prima ancora di un impegno una visione comune. Sono stati anni assai difficili, io non commetterò l'errore di ripetere, come dire, il fatto che questo è un Paese che si è fortemente impoverito, che al di là della crisi del lavoro, la crisi sociale oggi sta mostrando, come dire, la sua parte, la sua faccia peggiore. Ma nonostante tutto in questa difficoltà, e se mi consentite, anche in una difficoltà di interlocuzione, abbiamo sentito di un sindacato qualche volta posto sotto attacco. Ecco, io vorrei ricordare a tutti che non sono stati anni facili, non sono stati anni in cui, come dire, c'è stato un credito riconosciuto da alcune organizzazioni, ad un mondo, a quel mondo che in qualche modo il vostro segretario sottolineava bene, che è il mondo della solidarietà, che è il mondo di chi oggi immagina che ci può essere un altro futuro per questo Paese, e legge la storia da un'altra prospettiva rispetto a chi si siede in Parlamento. Sono stati anni difficili, ma credo che, oltre alla grande riflessione che abbiamo avviato proprio sull'industria 4.0, insieme proprio alla CISL e ad altre organizzazioni, alla quale dedicheremo il nostro convegno di studi di settembre a Napoli, abbiamo costruito cose importanti, come il reddito di inclusione sociale. Finalmente il nostro Paese ha uno strumento di contrasto alla povertà, dopo che eravamo rimasti in Europa solo noi e la Grecia. Abbiamo voluto, attenzione, anche lì, legarlo ad una filosofia. Il tema è che le grandi organizzazioni del lavoro tornino a ragionare insieme. Non è un tema banale, cioè a quello che questo strumento è uno strumento che deve dare nuove opportunità, che accompagna di un processo di inclusione, che accompagna processi di formazione e di lavoro, perché riteniamo non sia questo il tempo in cui il lavoro vada banalizzato. Noi non vorremmo che in questo periodo della storia qualcuno banalizzasse il senso del lavoro. E guardate che se poi dopo cogliete le sfumature rispetto ad altre proposte che si muovono pure in questo campo di contrasto alla povertà, se possiamo definirla così, vi renderete conto che ci sono delle differenze. Questo lo dico perché voglio sottolineare che c'è un lavoro importante e comune. Io, in primis oggi, anche per mandato di Roberto Rossini, che saluta naturalmente l'Assemblea, voglio confermare la fiducia di un cammino, Marco, del cammino che abbiamo fatto nel corso di questi anni e che le Acri oggi vogliono rinnovare. Diceva bene, Marco, non è finito il mondo, è finito quel mondo che le Acri e il sindacato intario conobbero cento anni fa, meglio ancora nel periodo post bellico. Quindi non è finito il lavoro. Se qualcuno vuole spiegarci che è finito il lavoro, io credo che noi dobbiamo avere l'intelligenza di spiegargli che non è così. È finito quel lavoro che ci impose strategie e battaglie per la democrazia e per il progresso di quel periodo della storia del Paese e dell'Europa. Io credo che questo ragionamento vada recuperato anche in una dimensione che a me piace molto e poi mi avvio a concludere, perché non la voglio fare più lunga di chi mi ha preceduto, che il vostro segretario con un incipit abbastanza importante riporta a pagina 19 della sua relazione perché non si può fare a meno del sindacato, non si può fare a meno, dice perché da forma è contenuto la rabbia e la disperazione. Io non credo che sia solo questo. Poi lui aggiunge perché è l'unico soggetto capace di trasformare l'energia positiva. Il sindacato ha senso se torna a essere un grande progetto educativo collettivo. Io credo di sì. Io credo che forse qui c'è un recupero anche del sindacato delle origini. C'è un recupero del sindacato delle origini. Perché quando in questo Paese qualcuno dice che la democrazia l'hanno costruita soltanto i partiti e non l'hanno costruita i lavoratori, fa un errore gravissimo. In quel periodo, Marco, noi facemmo, voi svolgeste insieme a noi, noi insieme a voi, un grande progetto educativo che costruì quella grande democrazia che ancora, mi permetto di dire, è questo Paese. E allora forse c'è un recupero di radici in quello che tu dici. Ultimo passaggio, e qui è davvero, voglio dirlo con piacere, non mi capita spesso di trovare tanto coraggio in giro. Siete coraggiosi. Siete coraggiosi perché l'idea di mettere al centro del vostro progetto di rilancio e di rifondazione, credo si tratti proprio di quello, ma non solo per voi, voi avete il coraggio di dirlo. Credo che sono molte le organizzazioni del lavoro che debbano pensare a un processo di rifondazione, ma il coraggio sta nel rimettere al centro i giovani, oltre che il lavoro. Guardate, la rottura del parto intergenerazionale per noi è, come dire, qualche cosa che crea un'ombra sul futuro non solo di questo Paese, ma dell'Europa stessa. Allora l'idea che un sindacato come il vostro possa, come dire, ragionare su recuperare le forze migliori di questo Paese, che sono i giovani e che normalmente, come tu hai scritto nella tua relazione, sono fuori da tutti i processi più importanti. Qualche volta anche fuori dalle organizzazioni. Mi permetto di dire insieme agli immigrati, sui quali pure dovremmo fare qualche ragionamento, questo è un Paese in cui ci sono 5 milioni di cittadini strani irregolari o un milione di bambini, altre battaglie che abbiamo fatto insieme, ne ho citata soltanto una, un milione di bambini nati qui che non capiscono per quale motivo sono cittadini di fatto ma non di diritto. Ma questo sta nelle corde delle riflessioni che dovremmo aprire nel futuro, io credo di sì. Ecco, questa rottura del patto intergenerazionale, questa frattura che descrive questi come i soggetti più deboli di una catena, la sfera culturale, dicevi tu, la sfera formativa, l'impegno a una formazione che sia per tutta la vita, la possibilità che si recuperi anche rispetto a un tema che a me fa tremare le vene dei polsi, perché quello sì mette seriamente in dubbio il futuro del Paese, che per esempio è l'abbandono scolastico. Ma che Paese è un Paese nel quale i bambini non vanno più a scuola? Ve lo siete chiesti. E allora credo che tutti questi temi, e mi scuso per averli toccati così a volo d'angelo perché evidentemente non c'è la possibilità di entrare in tutte le questioni che Marco ha trattato con grande precisione. Ecco, credo che questo sia l'impegno e io ho molto apprezzamento per il vostro coraggio, cioè per la capacità di capire che in questo momento bisogna provare a legare ciò che nel tempo per colpa qualche volta di politiche sbagliate, possiamo dirlo, senza rischiare di essere populisti, anche perché in questo Paese ce ne sono tanti, non ci aggiungeremo anche noi, anche per colpe di politiche sbagliate. Quel patto generazionale rischia di rompersi, sì, forse è l'ultima campanella, è la campanella dell'ultimo giro, dicevi tu. Noi non dobbiamo perdere questa occasione. Chiudo dicendo che troviamo, trovano le acri nelle radici del sindacato e nella vostra storia, le stesse radici che alimentarono le acri delle origini, troviamo nella vostra attenzione, nel vostro presente e anche nel vostro futuro il senso di un cammino che oggi confermiamo di voler condividere, perché sentiamo che la cosa peggiore sarebbe rompersi, spaccarsi ancora. Per favore, basta. Io conservo nel cuore, credo di poterlo dire il sogno dell'unità sindacale, credo di sì. Conservo quel sogno nel cuore. E dalle parole che ho sentito stasera dal vostro segretario e dagli altri segretari confederali, mi sembra che se quell'unità non si può fare, si può fare qualche cosa che ci consenta un cammino comune. Ecco, sono persuaso dal fatto che oggi l'Italia e l'Europa non ha bisogno di meno sindacato, ha bisogno di più sindacato. E per questo vi faccio gli auguri e spero che le cose che Marco ha scritto nella sua relazione possano trovare compimento. Grazie.